Un autore reale ha affermato che non c'è nulla che Meghan Markle non distorcerà per giustificare la sua posizione nel suo attesissimo ricordo bomba. Secondo quanto riferito, i membri della famiglia reale sono preoccupati, poiché il libro di memorie di Meghan Markle potrebbe causare profondo dolore. Il mese scorso è stato rivelato che la duchessa di Sussex sta progettando una propria autobiografia. In seguito al successo mondiale del libro Sper di suo marito, il principe Harry. L'affermazione è stata fatta dall'autore reale Tom Bauer. Un autore reale ha affermato che non c'è nulla che Meghan Markle non distorcerà per giustificare la sua posizione nel suo attesissimo ricordo bomba. Il commentatore reale Phil Dampay ha detto a Fabulous. I reali presumeranno il peggio, e si prepareranno per ulteriori rivelazioni. Non farebbe altro che peggiorare le relazioni, ma non credo ancora che i reali risponderanno. Rimarranno in silenzio e lo assorbiranno, anche se ne rimarranno profondamente feriti. La loro politica era che Harry e Meghan finissero le munizioni, ma sfortunatamente ne hanno rimaste molte sotto forma di un libro di Meghan. Non c'è nulla che non distorcerà per giustificare la sua posizione. L'autore ha aggiunto che si aspetta che il principe Harry sostenga Meghan al 100%, indipendentemente dal fatto che dica la verità o no. Ha aggiunto, personalmente non credo che Meghan, abbia mai avuto intenzione di restare nella famiglia reale. Ma questo non le impedirà di inventare la propria narrazione degli eventi per giustificare le sue azioni, e sono sicuro che Harry la sosterrà al 100%. Anche se non è giustificato, penso che Meghan ormai si sia convinta di avere ragione, e non riesca a vedere il punto di vista dell'altra parte. Anche se non sono benissimo. Anche se non sono benissimo. Grazie a tutti.